Salve gente, partita difficilissima che riusciamo a portare a casa questi tre punti veramente fondamentali visto l'ultima contro la Juventus ho le orecchie attappate ragazzi, mamma mia meno male che sono arrivato alla fine perché tra voce e cose stasettimana è stata terribile, comunque una partita difficilissima ragazzi un Monza che ci ha messo in difficoltà, che ci ha andato così vicino proprio per un millimetro al vantaggio ci ha chiuso tutti gli spazi, ben organizzata, pericoloso un Monza devo dire veramente pericoloso una partita che forse in altri tempi non avremmo vinto e che invece siamo riusciti in modo con capabilità insomma piano piano a portarla a casa un primo tempo osceno, orribile, veramente un primo tempo dove meritava sicuramente il Monza e un secondo tempo invece dove piano piano siamo riusciti a mettere la testa fuori e fare un po' di più il nostro gioco cosa che nel primo tempo invece era proprio un lontano ricordo quello che era il gioco della Lazio invece con Pedro che è stato probabilmente il migliore con una squadra che comunque è salita con i cambi soprattutto perché comunque ragazzi poi ne parleremo soprattutto quando finirà il campionato ma questa prima parte di campionato ma a gennaio bisogna intervenire assolutamente lì al centrocampo secondo me si parla sempre con qualcuno deve uscire per fare entrare qualcun altro ma bisogna uscire Marcos Antonio ragazzi non serve veramente a nulla noi giochiamo con uno in meno non porta nulla non fa un passaggio oltre i 6 metri cioè è una cosa terrificante cioè è proprio completamente il nulla quasi l'impiango ACPAC Pro ed è tutto dire comunque questo ne parleremo poi resta il fatto che comunque i cambi con Cataldi che ci mette più grinta, più piede, più passaggio e anche con Basic devo dire che ci ha messo grinta ci ha messo velocità insomma siamo riusciti a spangarla e soprattutto ci siamo riusciti con il giovanissimo Luca Romero che più lesto di tutti in mezzo all'aria recupera il pallone insomma va incontro al pallone e si merita il gol gli applausi, gli schiaffi, gli incoraggiamenti tutto quello che gli è venuto dopo il gol ma si merita tutto perché comunque grazie a lui riusciamo a risolvere una partita ripeto difficilissima per colpa di un Monza ben organizzato un Monza che veramente se l'è giocata e forse va via con niente in realtà rispetto a quello che forse meritava perché forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma il calcio è questo delle volte si vince magari non meritandolo pienamente delle volte si perde non meritandolo pienamente in questo caso siamo noi a essere riusciti a vincere ripeto una partita complicata e tre punti che erano fondamentali perché adesso siamo lì stiamo in alto ce la giocheremo con la Juventus nota importantissima il rientro di Ciro era previsto, ormai era nell'aria il rientro con la Juventus almeno per un tempo e si è anticipato un pochettino i tempi per fargli riassaggiare il manto erboso proprio in attesa della Juventus comunque ragazzi i tre punti veramente sono contentissimo perché era importante ripeto questa sembrava una di quelle partite stregate che non si sbloccavano mai anzi che rischiavi di perdere alla fine e invece e invece e invece qualcosa è cambiato dai qualcosa è cambiato sicuramente per merito di Sarri sicuramente perché c'era la voglia di portargli a casa questi tre punti e noi ce li siamo ottenuti questi tre punti e aspettando aspettando ormai praticamente fra 48 ore la Juventus e vediamo come finirà questa prima parte di campionato ragazzi ricordatevi che qui finisce una prima parte quello che succederà a gennaio è tutto da vedere il povero Napoli che se avesse continuato probabilmente la sua galoppata in questi mesi in queste settimane se avesse potuto probabilmente non si sarebbe fermata avrebbe preso punti su punti di vantaggio in realtà questa sosta più di tutti blocca proprio il Napoli e a ritorno vedremo come ripartirà il campionato se ci sarà la stessa narrazione o se le cose cambieranno per adesso occhi e testa e piede per la Juventus e niente ragazzi ricordatevi scrivete se ancora avete fatto nostra Vamo 76 per le vostre domande cliccate sulla campanellina prima di raggiornati un like prima di abbandonare il video e olive dolci e mi raccomando nei commenti fatemi sapere ragazzi secondo me chi è stato il migliore stasera secondo me Petro però voglio sapere anche la vostra ragazzi mazza che sudata stasera grazie a tutti grazie a tutti